La maglia tricolore, il sigillo di una carriera già fantastica e che da adesso diventa monumentale. Marta Bastianelli regala al suo pubblico una giornata indimenticabile, conquistando il campionato italiano donne di ciclismo proprio sulle strade di casa. Lo fa a modo suo, con una volata imperiale sul traguardo, quella che gli aveva già regalato delle gioie incredibili. L'ultima al Giro delle Fiandre, l'anno scorso il campionato europeo a Glasgow e così la campionessa laziale, campionessa anche del mondo nel 2007, ormai adottata dall'Abruzzo, sul traguardo di Castelnuovo precede Elisa Balsamo, Ilaria Sanguinetti e Marta Cavalli. Gara condizionata dalla fuga iniziale, resisterà solamente e fino a 9 km dal traguardo Alessia Vigilia della Valcar, prima che il gruppo la raggiunga. Prima dell'ultimo strappo, quando Erika Magnaldi prova l'azione personale, le vanno dietro Elisa Longoborghini e Soraya Paladin, quando mancano 4 km alla fine. L'azione sembra essere decisiva, sembra appunto, perché l'azione di chiusura delle fiamme azzurre ha permesso il ricognuncimento ai meno 2 fino alla volata conclusiva. Il resto è una giornata speciale per Marta Bastianelli, che infila un'altra prestigiosa maglia nel Palmares, per la prima volta è tricolore. Certamente l'ha più forte nelle volate una sentenza, in tema di grandi appuntamenti, a far da contorno ad un successo atteso e preparato anche, dovendo rinunciare al Giro Rosa, un pubblico che aspettava Marta sulla linea del traguardo e lì l'ha ritrovata con le braccia al cielo, per l'ennesima volta, regalando un'altra gioia ad una regione, che ormai l'ha adottata definitivamente e che ha portato sul tetto d'Italia e d'Europa. Non eravamo la squadra da battere, perché comunque siamo partite in 5, perché comunque ognuno di noi in questi mesi ha avuto dei problemi, Elena è appena rientrata con un braccio rotto, Tatiana è caduta anche lei al Giro, io con un ginocchio, quindi eravamo veramente la squadra più, proprio che non aveva nulla da perdere, ma in realtà non volevamo perderlo questo italiano, e quindi abbiamo lottato veramente con i tendi e credo che questo sia proprio per loro. Beh, guarda, le grida delle persone mi ha ricordato un po' il Fiandre, quell'emozione pazzesca, è una forza che anche se non hai, credo che ti trasmettono, quindi credo che questo veramente sia un coronamento importante della mia carriera.